Inizia ad invidiare le persone che hanno ancora occhi virgine a quella meraviglia visiva. Basta! Mi hai rotto il cazzo! Non mi faccio a liberarmi di te. Invece di sparare cazzate, dimmi cosa devo fare. Calmati. Stai presentando tutti i sintomi di una dipendenza. A socialità, paranoia, irritabilità, spazi di umore, disturbi del sonno, astinenza. Ti stai rendendo ridicolo. Non ce la faccio più ad aspettare che esca la nuova puntata. Non posso non tenermi così sul filo di un rasoio. Provano piacere nel farmi soffrire. Non volevo che la mia famiglia... Se entrassero qui a casa mia avrebbero orgasmi multipli solo a vedermi impazzire. Non ce la faccio più ad aspettare... RELAX, Oggi è la mia scelta. Può fare una collezione all'intesa nuova, oppure una più tradizionale scelta con latte croissant può scegliere come una regina. Grazie, mi è passato l'appetito. Lei cosa sceglie? Una brioche, grazie mille. Si figo con il cavo? Da quanti giorni siamo qua? Tre giorni. Dobbiamo andarcene. Ferma! Elena, calma! Lasciami! Elena, respira! Ormai la polizia starà arrivando. Torniamo dentro. Va tutto bene. Penso io a tutto. Meglio. Va un po' di ghiaccia. No, lascia, vado io. Dobbiamo chiamare la polizia. Claudio non ha trovato nessuno. Ah, giusto. A, giusto. No, le sono non jackal. No, le sono non jackal. No, le sono non jackal. Grazie a tutti.